Come si balla questa? Mary Benchester, Plastic Man È poco, di più, di più Non ti sento, non ti sento Ha ragione lei, ci vogliono le mani, mani, mani Mary Benchester Ciao Franco Zichi Massimo Cominotto Leo De Gas Dietro alla tenda c'è Michi Salutiamo e ringraziamo TATACCA Ci siamo o no? Free Spirit Gli amici si vedono alla domenica sera È una speciale prova di Ferragosto Storie di interferenze Modulare Trasversale Chi l'ha riconosciuto può iniziare a battere le mani Battiamo, battiamo le mani È arrivato Professore Pronto? 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 Fuori Fuori Si continua a battere le mani Dove sono gli amici di Aulla, Nicola? All'inglese Dual Band G G S M Ciao Aulla, Sarzana, Spezia, Genova Arriva Paolo Chighine Con la K Quella grossa Paolo, Paolo Chighine Paolo, Paolo Chighine Paolo, Paolo Chighine Paolo Chighine Paolo Chighine Nolle nelle gambe Molle nelle gambe Carfalle nella testa C'è un professore di disegno che dice che Dio è tondo Paolo Chighine è il professore più pazzo del mondo Posso andare in bagno professore? Sulle mani, free spirit Regalami la tua energia Paolo Chighine è il professore più pazzo del mondo Ti è scappata la scimmia Te lo ricordi? L'anno scorso la gente gridava di più Eeeh! Eeeh! Va da sé, va da sé, ci vogliono le mani Uno, due, sei, nove Sarebbe bello essere a Guille Andare a vivere alle attille Eeeh! 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 Vola Paolo Chighine Ma è venuto Paolo Chighine o no? Michele! Fratello non temere Io faccio il mio dovere Tu balla Tu suona Mi carico, mi carico Mi carico Mi carico 100% Mi carico 100% metamorfosi ha detto di alzare il volume spizzino più su volevi la musica ti dà fastidio ti dà noia senti come sta senti come sta la testa la testa la testa la testa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una pallina, una pallina, una pallina, una pallina... Free Spirit c'è il professore, sta facendo l'appello... C'è nessuno che grida! Va bene, 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 capito, 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 capito... Ah, com'è che fa? Lui ha una chitarra a forma di cannoziale Lui ci guarda dentro per vedere dove andare Tu vivi ballando vorresti cambiare la gente Lui mette la musica, non gliene frega! Non gliene frega! Capito, 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 capito Così stilisci il tema Musica Aller, Sion! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 sui. a tutti. sui. a tutti. 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 a tutti.